Buongiorno a tutti, è arrivata la seconda sconfitta per la Juventus, in Champions e una cosa importante è appassiare a battere queste squadre come ha fatto l'Inter quel giorno del teponetto, ma ha fatto un girone torto l'Inter, perché l'Inter ha mostrato tutto, ma speriamo noi della Juve, siamo della Juve, ma portare fortuna di aver portato la possibilità e non portiamo la sfida della Madonna che noi diciamo, ma noi perdiamo, ma noi perdiamo e almeno credo che la Juve avrebbe portato in fondo l'anima, l'orgoglio fino alla fine e questo qua filmato, voglio girare anche il secondo girone, l'ultimo girone per Juve porto, voglio auguriare tantissimi miei giocatori e il nostro allenatore Pirlo per portare fortuna la partita in quinta fascia del girone, diciamo noi abbiamo fatto una sconfitta, ma la Juve la Juve non interessa più la sconfitta e la Juve deve concettare sul campionato e poi il 9 di marzo c'è l'ultimo girone di Champions League con Juve e Porto, big match tra Juve e Porto, questo è il primo filmato, voglio portare, auguriare la fortuna la nostra Juve e voglio chiedere la nostra Juve a dare una mano per tifosi e poi anche la famiglia bianconera e voglio ringraziare anche Pirlo ma soprattutto non è giusto la sconfitta, meritava vincere la Juventus con Porto, ma soprattutto la fine infondito diciamo fino alla fine forza Juventus, vinceremo anche, lo dico, non lo dico, lo vinceremo, è una bufata, è una bufata, non lo dico mai nella vita, noi andiamo a giocare, questo gioco vuole la Juve, la Juve vuole capace di buttare fuori il Porto, gli ottavi di Champions League, adesso mettete le mani avanti, fate voi, io sto silenzio, fate voi, io voglio vedere la Juve con calma e fa molto fatica e andiamo per festeggiare la Champions League, questa è una bufata, sotto scritto, fino alla fine non si muore mai la Juventus, a voi toccate vincere col Porto, forza Juventus!